c un'unione di comuni esclusivamente montani di un'unione di comuni costituita fra comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse come notate il cliché è lo stesso della 1 quindi stesso identico cliché cliché intendo i quiz che hanno la stessa struttura cambia il contenuto della domanda e delle risposte ma la struttura logica è la stessa ecco questo è un cliché è identico al primo e quindi sicuramente vi orienterete su due possibili opzioni anche qui c'è da capire se c'è il trabocchetto non c'è il trabocchetto stanno arrivando numerose risposte siamo già a 30 risposte 50 come detto intorno ai 100 ci fermiamo intanto abbiamo 200 partecipanti in diretta ringrazio nuovamente per la quantità e vedo anche dalle risposte la qualità del partecipazione c'è chi magari visualizza ma non vuole partecipare al quiz nessun problema non se la sente o pensa di essere troppo troppo indietro lucia prova a usare chrome sì un suggerimento è usare come browser chrome allora vediamo 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 ok abbiamo superato i 100 quindi sto per interrompere il sondaggio il trabocchetto c'è c'è anche qui il trabocchetto ovviamente allora vediamo un po le risposte che avete dato il 55 per cento ha risposto domodossola unione di comuni montani anche appartenente a province diversa qui ovviamente la differenza fra la e la d era la possibilità di fare comunità montane superando i confini provinciali il 41 per cento ha risposto a solo il 2 per cento solo un paio di persone ha risposto la c di como che con quella parola esclusivamente non è mai la risposta esatta vediamo allora la risposta questa volta il 55 per cento ha indovinato le comunità montane ovviamente possono essere costituite anche fra comuni appartenenti a province diverse partecipo anche se come psicologa all'inizio della mia preparazione mi sento molto in difetto ma assolutamente all'inizio tutti psicologi giuristi vi assicuro che la maggior parte di quelli che entra in crisi sono i laureati in giurisprudenza che iniziano a studiare per i concorsi convinti che i 4 5 anni di studi universitari gli diano un vantaggio e si ritrovano ad avere risultati peggiori degli altri io dico sempre a tutti questi chi mi telefona chi mi scrive la laurea in giurisprudenza ovviamente dà un vantaggio ma nel medio lungo periodo nell'immediato rischia di essere una zavorra perché si pensa di conoscere cose che non si sanno intanto vi viva vita esulta finalmente una giusta ora siamo alla seconda quindi vuol dire una giusta una sbagliata c'è illogicità interna nella a che porta ad escluderla diciamo potrebbe essere niente vietava il legislatore di prevedere questo vincolo ma era abbastanza assurdo allora siamo arrivati alla domanda numero 3 ve la lancio intanto una domanda sto studiando da giugno e ho fatto un concorso arrivando quarto ora ne preparo un altro ma la memoria tende ad abbandonarmi è normale diciamo non so cosa si intende tende ad abbandonarmi a volte è un'impressione soggettiva spiego se io all'inizio della preparazione studio il diritto amministrativo e basta mi ricorderò quasi tutto se poi ci metto pubblico impiego appalti contabilità materie economiche è ovvio che ho la sensazione di dimenticare ma perché aumenta il numero delle cose da ricordare quindi è relazionale se la diciamo l'indicazione questa certo ci mancherebbe altro che aumentando le cose da imparare aumenta la sensazione di non ricordarsi soprattutto quelle iniziali ecco perché la preparazione deve essere continua ma è un fenomeno normale e poi ricordatevi questo i concorsi sono delle competizioni ciò che accade a voi accade anche agli altri voi dovete lavorare perché vi accada di meno rispetto agli altri non perché non vi accada accade a tutti il tentare di ricordare bene e quindi di imparare non a pappagallo ma di imparare meglio se ci metto tutto il full è normale la depressione è ovvio se io ho preso il full 112 con 300 ore di formazione non posso pensare di ricordarmi tutto quanto a me sembra di fare un minestrone se aggiungo più materie è un effetto del tutto del tutto naturale adesso andiamo alla domanda numero 3 cosa sono i consorsi a enti locali per la gestione associata di uno più servizi b enti locali per la gestione associata del bilancio c enti locali per la gestione associata di uno più servizi e l'esercizio associato di funzioni di enti locali con la partecipazione obbligatoria di privati vediamo un po che cosa viene fuori stanno arrivando le risposte qui abbiamo una maggiore polarizzazione come abbiate visto nella domanda a e b abbiamo avuto gli studenti spaccati a metà questo significa che pochi risponderanno al 100 per cento delle risposte anche in queste prime dieci che sono le più semplici qui invece abbiamo una certa polarizzazione non vi dico qual è la risposta più data però diciamo una certa polarizzazione vediamo se è giusta o se c'è anche in questo caso un trabocchetto ovviamente vi invito non andate a guardare sul testo unico non andate a cercare la risposta su google non vi serve vi serve capire se da soli rispondete bene non vi serve neanche fare bella figura il sondaggio anonimo quindi non so chi di voi risponde bene o risponde male quindi vi consiglio proprio di non farlo allora vediamo un po vediamo un po stiamo abbiamo superato abbondantemente fra l'altro abbiamo superato anche abbondantemente i 200 partecipanti in diretta e siamo arrivando a addirittura 150 partecipanti al quiz il che aumenta di moltissimo l'efficacia statistica perché come essere un concorso vero considerate che molti di questi che partecipano sono persone che vi troverete poi in aula ecco qua siamo intorno ai 150 terminiamo il sondaggio e vediamo qual è l'indicazione più data da voi e se è la risposta giusta il 73 per cento ha risposto c di como il 23 per cento a scartate le altre anche in questo caso analogo cliché la risposta esatta fra la a e la c la c ha un qualcosa di aggiuntivo vediamo allora la risposta esatta questa volta la maggioranza ha indovinato c enti locali per la gestione associata di uno più servizi e per l'esercizio associato di funzione attenzione a non trarvi in inganno nel senso che i consorsi per l'esercizio associato di funzioni sono stati diciamo superati quindi c'è una norma che ne prevede la cessazione ma questo non significa che nella definizione di consorsi non ci siano che in questo momento non possono essere costituiti altra cosa quindi questa è una domanda un po' trabocchetto nel senso che chi ha risposto a potrebbe essere stato tratto in inganno dal fatto che la normativa attuale al momento non consente la costituzione di consorsi per l'esercizio di funzione quindi vediamo le prossime risposte vediamo se ci sono dei commenti così da non riesco a mettere nell'immediato la risposta perché la schermata viene tolta subito subito no la schermata di votazione rimane diversi secondi però detto così sembra proprio che i consorsi siano veri e propri enti locali allora questa può essere un'osservazione il fatto che il quiz definisca enti locali ma poiché lo definisce per tutti e quattro non è elemento pertinente quindi non dovete stare a considerare se la risposta di per sé è tecnicamente sbagliata e lo è come giustamente osserva andrea gli enti locali non sono scusate i consorsi non sono enti locali ma la definizione è data per tutte e tre per tutte e quattro le risposte quindi quella scartatela tutto ciò che è uguale in tutte e quattro le opzioni non lo considerate che sia giusto o sbagliato voi dovete trovare le risposte sbagliate quella che rimane anche se tecnicamente sbagliata è la risposta corretta infatti vamo dire la risposta corretta cioè quella da dare al quiz perfetto allora andiamo avanti con i nostri quiz intanto mi suggeriscono quando avete dato il voto la schermata del sondaggio vi scompare quindi avete già dato il voto doveva essere indicato almeno secondo la definizione del tuel doveva i quiz non è che si possono contestare se fate ricorso contro questo quiz lo perdete quindi dovete cercare di adeguarvi a quelle che sono le regole del gioco non cambiarle quindi non penso che qualcuno abbia risposto male perché ha visto la parola enti locali anche perché non c'è l'opzione sono tutte sbagliate che sarebbe stata in questo caso l'opzione giusta ok attenti a non essere troppo troppo pignoli quiz sono necessariamente una semplificazione perché il diritto è complesso intanto un benvenuto a massimo che mentre stiamo facendo la diretta si è abbonato al canale benvenuto fra gli abbonati al canale io ho risposto c ma chi ha risposto a una preparazione più raffinata della mia può essere questa è una considerazione giusta ha una preparazione più raffinata ma ha sbagliato ok ecco quando dico attenti a non essere troppo raffinati sui quiz i quiz non sono per soggetti raffinati perché perché i quiz sono una drastica semplificazione guardate la domanda quattro parole per un concetto che richiede un'ora di spiegazione e un rigo è ovvio che devo essere tranchante in questo rigo allora vediamo un attimo vediamo un attimo la domanda numero 4 allora intanto vi ricordo la mia pagina facebook per chi fosse interessato stiamo arrivando anche lì a circa 20.000 iscritti la trovate su simone chiarelli punto pagina ve lo consiglio perché molte delle iniziative le faccio anche su facebook pronti attenti via domanda numero 4 il presidente del consiglio comunale a è obbligatorio nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti b 15.000 abitanti c 100.000 abitanti d è obbligatorio in tutti i comuni eccomi qua torno con la mia acqua allora tanto antonella ha notato l'arrivo di lola nel senso che io mi sono chiuso la porta ma lei è riuscita ad aprirla forzatamente adesso l'ho rimandata fuori grazie marinella riesce ad arricchire anche un semplice quiz ma i quiz vanno usati in questo modo non si deve abusarne ma capire la struttura la logica come ragiona chi sta dietro questi quiz dove sono i trucchi e riuscire a dedicarci io dico sempre almeno 10 minuti ad ogni quiz per vedere come in questo è vedremo che è molto interessante intanto devo abbandonare per andare al lavoro assolutamente fatta morgana buon lavoro e ci vediamo per chi volesse anche prossimamente sapete nel weekend sono molto attivo bene vediamo quanti voti 136 voti giuseppe dice sembra una domanda trabocchetto c'ho un po di sospetti su quello che è intanto angi dice da campana mio marito mi dice che ho già maturato l'accento toscano infatti diciamo che questa domanda si presta ai toscani perché il presidente del consiglio comunale è tosta pronti attenti via allora chiudiamo con 143 voti allora abbiamo la metà circa che risponde b di bologna i 15 mila abitanti un 30 per cento risponde domodossola in tutti i comuni vediamo allora qual è la risposta esatta per il quiz per il quiz che è la risposta b di bologna anche qui anche qui c'erano dei trabocchetti allora scartiamo i 5 mila e i 100 mila non perché non esistano come livelli di classificazione degli enti locali chi ha studiato a livello avanzato sa che 100 mila è il limite per la nomina del direttore generale i 5 mila è il limite sotto il quale gli enti locali hanno delle norme particolari la nomina degli assessori e dei sindaci come come organi tecnici il peg e altre norme di questo genere bene ma non non l'organizzazione perché per quanto riguarda l'organizzazione il limite è 15 mila qui come ho visto in qualche commento qualcuno ha fatto il raffinato e ha detto nei comuni sotto i 15 mila abitanti c'è il sindaco il sindaco presiede sempre il consiglio e quindi è in tutti i comuni perché sia sopra che sotto i 15 mila abitanti c'è il presidente del consiglio comunale sopra i 15 mila abitanti è persona diversa dal sindaco sotto i 15 mila abitanti è il sindaco a meno che lo statuto non preveda diversamente qui però attenti ve l'ho detto non bisogna essere troppo raffinati la risposta è obbligatorio nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti è senz'altro corretta ok sotto i 15 mila abitanti ci mancherebbe altro che non ci sia un soggetto facente funzioni di presidente del consiglio facente funzioni cioè il sindaco quando presiede il consiglio comunale lo presiede in virtù della sua qualità di sindaco state attenti tento di spiegarlo perché perché non viene eletto presidente del consiglio comunale ok lui è eletto sindaco e automaticamente se lo statuto non prevede diversamente presiede il consiglio ma nella sua veste di sindaco se decade dal sindaco decade anche dalla presidenza del consiglio comunale quindi la di che ragionando in un modo complicato e complesso per cui anche sotto ci deve essere qualcuno che presiede qualcuno che presiede ma non è il presidente fatele più semplici altrimenti rischiate veramente chi paradossalmente è un elevato livello di preparazione per cui saprebbe fare una domanda risposta aperta di tre pagine sul presidente del consiglio comunale poi si trova a sbagliare il quiz quindi questo era come vi dicevo è un quiz medio semplice ma che è scritto bene chi ha realizzato questa banca dati ha saputo fare isabella dice domanda stramba domanda stramba ma è questo cristina dice ora ho capito il ragionamento è un po particolare ma vedete ci aiutano queste dirette perché meglio che vi accada qui che non al concorso al concorso intanto mi dice francesca mentre studiavo il procedimento ho ricevuto un provvedimento dell'inps l'ho risolto grazie alle conoscenze e penso che abbiano fatto degli errori fa piacere anche che mettiate in pratica il diritto amministrativo non è solo per i concorsi ma è il quotidiano quindi fa piacere che sia stato utile anche per casi concreti allora andiamo alla risposta domanda numero 5 allora pronti attenti via quando il presidente del consiglio comunale è obbligato per legge a riunire il consiglio stesso a quando lo richiede il presidente della regione b quando lo richiedono i consiglieri di minoranza c quando lo richiede il segretario comunale d quando lo richiede un quinto dei consiglieri e ah 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 vediamo vediamo un po stanno arrivando molte risposte questa è la più semplice ok la più semplice fra quelle proposte sicuramente intanto Antonella mi preannuncia una domanda aspetto la fine del sondaggio allora bene abbiamo superato abbondantemente i 100 e vediamo qui abbiamo il 91 per cento che ci dice la domodossola che ovviamente è la risposta corretta il presidente è obbligato quando lo richieda un quinto dei consiglieri ovviamente il trabocchetto era anche la b di bologna uno di voi ha risposto b di bologna quando lo richiedono i consiglieri di minoranza sì ma se raggiungono un quinto dei consiglieri ok quindi non i singoli consiglieri di minoranza presidente della regione non ci incastra niente il segretario comunale infatti due di voi ci sono cascati poteva trarre in inganno ma il segretario comunale non è organo politico non può chiedere ho vinto un concorso a Genova anche grazie a lei benissimo so che ha fatto corsi di formazione qui spero proprio che ne faccia ancora sì sono venuto a Genova per fare dei corsi e chissà magari ci sarà occasione di rivederci in presenza fisicamente assolutamente io lo dico a tutte le amministrazioni che vogliono e mi invitano spesso ma non sempre perché ho anche altre cose però mi fa piacere sempre fare incontri in presenza anche e soprattutto per i neoassunti il comune di Genova è forse a livello nazionale il miglior esempio di formazione strutturata soprattutto per i neoassunti anche per i non neassunti ma soprattutto per i neassunti ha avviato un progetto veramente veramente che è un'eccellenza a livello nazionale come ricordare tutte le varie frazioni presenti nel tu el allora un po per memoria è ovvio che un po di memorizzazione serve ricordo a tutti voi so che moltissimi lo hanno fatto sono iscritti hanno seguito il corso di memorizzazione che è attenzione un corso scientifico con un metodo scientifico per memorizzare le nozioni giuridiche eccolo qua tenuto da me vi metto il link gr111 ecco quella è una metodologia ovviamente in quel modo io memorizzo fra virgolette a pappagallo in realtà con un metodo scientifico che mi rimane impresso e questo è fatto soprattutto quando sono nozioni che non richiedono una comprensione cioè quando guardo il 20 per cento del fatturato il 30 per cento cioè lì il legislatore poteva mettere di tutto ha messo quelle cifre non è che lo imparo in base al ragionamento logico in molti casi si ricorda in base al ragionamento logico qui è la minoranza cioè la minoranza deve avere il potere di convocare il consiglio altrimenti poi la maggioranza non lo convoca mai sulle cose importanti bene andiamo alla domanda numero 6 e la domanda numero 6 è nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti da chi è convocata la prima seduta del consiglio comunale a dal sindaco b dall'ex sindaco c dal prefetto d dall'ufficio elettorale tanto vi ricordo che i sondaggi li trovate aperti fin quando io non li chiudo li chiudo per commentare poi i risultati e poi li riapro con la domanda successiva in questo momento lo trovate aperto vedo che in molti stanno rispondendo intanto invito chi volesse del tutto volontario a mettere mi piace sul video trovate la funzione su youtube questo mettere mi piace ai video consente di renderli più diffusi e quindi di avere una classe ancora più numerosa ora siamo oltre 240 partecipanti il che significa avere anche statisticamente un'attendibilità migliore quindi dare visibilità bene quindi se volete se lo gradite cliccate sul mi piace ed eventualmente sul condividi in modo tale da condividere il video con altri intanto claudia ha risposto a forza la domanda precedente scusate ma è un concorso per comune questo sì è un concorso per enti locali è un quiz dato in una prova reale per enti locali ma anche chi non si presenta negli enti locali lo invito a o la invito a rispondere perché rispondere alle domande su materie che non si sono fatte vi è frequente vi troverete spesso aspetti domande che non avete trattato a vedere come vi comportate è fondamentale anche chi magari si sta preparando in sanità o nei ministeri o all'inps non importa fermo restando che è diritto amministrativo quindi può essere chiesto anche lì è ci sono già 150 voti sì è ottimo mi segnalano già che siamo arrivati quindi ormai ha un bel numero di grazie a tutti